Nome Nicole Emanuela Cognome Di Mario Tittocchia Ho detto cognome Di Mario è il mio cognome Tittocchia, perché che ha sto cognome? Professione Modella e indossatrice Attrice e conduttrice Il tuo successo più recente? Beh, ho vinto Miss Europe Continental Ho presentato la finale di Miss Europe Continental Cosa ha significato Miss Europe Continental per te? Beh, è stato un trampolino di lanzo per intraprendere il mondo della moda e dello spettacolo Un grande evento nella meravigliosa cornice della Regia di Caserta Cosa ti piace di Emanuela? Beh, Emanuela è una professionista e è un esempio per tutte noi ragazze E di Nicole? È una ragazza bellissima che ha capito che bisogna studiare e impegnarsi molto per raggiungere il successo Cosa stai facendo attualmente? Attualmente sto lavorando con i contratti presi grazie al concorso di Miss Europe Continental Sto rispondendo alla vostra intervista? No, scherzo Vi sto preparando a questa nuova edizione di Miss Europe Continental Che visibilità! Quante vetrine ti ha portato questo concorso? Beh, molti lavori e tantissime vetrine 20 o 30 Beh, posso dire almeno 100 vetrine? Hai 15 secondi per convincere le ragazze che ci seguono a partecipare alla nuova edizione di Miss Europe Continental Ragazze, non partecipate perché questa corona è bellissima e la voglio solo per me E poi non voglio cedere il titolo Dai, sto scherzando, partecipate in tante perché è un concorso fantastico Emanuela, il tempo è partito, tocca a te! Beh, purtroppo quando io ho iniziato questo concorso non c'era Però adesso c'è e voi ragazze siete affortunate perché potete partecipare e io vi consiglio di farlo Cosa devono fare per iscriversi e partecipare? È facile! Basta andare sul sito di Miss Europe Continental e compilare il coupon La mia assenza adOR È facile! VITO È facile! Grazie a tutti